Io sono il professor Maurizio Salvadori, sono stato fino a quattro mesi fa il direttore della nefrologia, dialisi e trapianto renale qui dell'azienda ospedaliera universitaria di Careggi, quattro mesi fa perché sono andato in pensione per anzianità, per vecchiaia, non per anzianità. La mia esperienza è di 40 anni con patologie renali di tutti i tipi e il policistico, la malattia policistica è uno scoglio che mi sono trovato ad affrontare prima dei primi momenti in cui ho iniziato la mia attività e che è tuttora assolutamente presente. Una malattia è stata detta questa mattina altamente trasmissibile, si trasmette con un modo dominante, quando si trasmette spesso la persona non sa di averla e di poter quindi trasmettere la patologia stessa, rappresenta fra le cause ereditarie assolutamente la prima come causa di insufficienza in dialisi e si tratta di persone molto spesso giovani. C'è un'attenzione per risolvere i problemi che un tempo non c'era. Risolvere i problemi vuol dire capire chi la trasmette, come la trasmette e è iniziata l'era finalmente di terapie, a parte quella del counseling genetico che quella è in atto e speriamo di ai suoi frutti. Ma esistono all'orizzonte però, perché ora in questo momento non ci sono, l'ho detto questa mattina, dei farmaci che hanno la prospettiva se non di far regredire, di arrestare l'evoluzione della malattia. Salve, sono Francesca Moretti, vengo da Camusia, sono paziente affetta da rene policistico bilaterale, già da molti anni so di avere questa malattia e credo sinceramente che un'iniziativa come quella dell'AERP, del Roadshow sia un'iniziativa più che utile per tutti, non solo per i medici, non solo per i familiari, ma per i pazienti stessi. Ti danno delle certezze in quello che possono, ti tranquillizzano e più che altro informano, cosa che ad oggi non fa più nessuno, non se ne sa niente, siamo tanti e non c'è informazione, questo è un grossissimo errore. Il mio nome è Manuel Burdese, sono un nefrologo, lavoro all'Università di Torino, all'azienda sanitaria, all'azienda ospedaliera universitaria da Molinette e sono qui intanto per un interesse personale e lavorativo su una patologia che ritengo estremamente importante, estremamente sottovalutata dal punto di vista sia delle informazioni sia dal approccio clinico della medicina in generale e quindi sono qui per cercare di sensibilizzare la maggior parte delle persone e per far circolare informazioni riguardo a una patologia in cui penso ci saranno molti sviluppi futuri e sicuramente molte soddisfazioni dal punto di vista scientifico nei prossimi anni.